oggi voglio mostrarvi una prova di utilizzo del sapone universale biomex detergente universale biomex insieme a questo tutti gli altri articoli e li trovate sul sito vimex shop nella confezione trovate insieme un'altra spugnetta e poi aprendo c'è una spugnetta rotonda in dotazione quindi ben due spugnette come utilizzeremo questo prodotto come si utilizza basterà bagnare la nostra spugna passarla leggermente nel sapone e strizzarla fa già comunque parecchia schiuma io sto molto attenta a quale prodotto utilizzo in questo caso io non ho un piano in ceramica in pietra quindi molto più delicato però essendo un prodotto naturale posso utilizzarlo su qualunque articolo anche questo che in pietra senza rischi appunto di alterarne il codone colore con le proprietà acquare con un panno umido in microfibra e rilascia veramente un profumo gradevole di limone adesso vediamo un po le scarpe che tante volte appunto si si manchiano diventano nere e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.